Poesia dal titolo Dai il meglio di te di Madre Teresa di Calcutta letta dall'artista polietrico Pino Gaudioso L'uomo irragionevole, illogico, egocentrico non importa, amalo se fai il bene ti attribuiranno secondi fini egoistici non importa, fai il bene se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri nemici non importa, realizzali il bene che fai verrà domani dimenticato non importa, fai il bene l'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile non importa, sii franco e onesto quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo non importa, costruisci se aiuti la gente se ne risentirà non importa, aiutala da al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci non importa dai il meglio di te non Grazie a tutti. Grazie a tutti.